La stagione del taglio dei tassi di interesse si sta per avvicinare. Che sia fine primavera o inizio estate, a meno di nuovi shock inflattivi improvvisi, Fed e BCE ridurranno il costo del denaro e questo determinerà molte novità. Non solo si abbasserà il costo di prestiti e mutui, ma cambierà anche lo scenario dei rendimenti dei conti corrente. Negli ultimi mesi si è visto un crescere delle offerte remunerative, ma questo trend ha seguito proprio l'aumento dei tassi, con i corrispondenti guadagni per le banche. Ora lo scenario potrebbe cambiare, quindi potrebbero essere gli ultimi mesi per approfittare di offerte molto vantaggiose. Lo scorso settembre BBVA ha alzato al 4% la remunerazione del suo conto corrente in Italia, con una mossa controcorrente rispetto alle scelte di molte banche che trattano il conto corrente come un servizio, applicando la remunerazione ad altri prodotti, come ad esempio i conti vincolati. Ci sono tuttavia, oltre ai classici conti deposito, anche i conti correnti che offrono tassi di interesse vantaggiosi. Vediamo qual è al momento la situazione dei conti corrente più remunerativi. Innanzitutto è importante sapere che il rendimento netto si calcola sottraendo dall'ordo il 26% dell'aliquota fiscale, lo stesso dei conti deposito. Quest'ultimi hanno rendimenti elevati, specialmente se sono vincolati. La banca spagnola ha raddoppiato dal 2 al 4% il tasso di interesse che offre sul suo conto corrente a zero spese in Italia. La remunerazione, che è valida fino al 31 gennaio 2025 e scatta con accredito mensile degli interessi, si può ottenere senza condizioni, ma anche senza saldo minimo e senza alcun vincolo di permanenza. Poi c'è il conto Widi Bastard, offre ai clienti un tasso annuo lordo del 4% sui vincoli a 3,6 e 12 mesi. La durata del vincolo può quindi essere scelta dal cliente. Scadute invece sono le offerte di IBL Banca e Mediolanum. La prima offriva fino al 16 ottobre ai clienti che sottoscrivevano un conto controcorrente, per i primi 12 mesi, il 3,3% lordo per importi fino a 50.000 euro. Cifra che scendeva al 3% fra i 50 e i 150.000 euro e al 2,5% per liquidità sopra i 150.000 euro. Dopo un anno, per chi ha sottoscritto l'offerta, il tasso lordo base arriverà fino allo 0,5%. Quanto a Mediolanum, con Selficonto i clienti che accreditavano lo stipendio fino all'8 novembre scorso potevano ricevere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con importo minimo vincolabile di 100 euro. Come detto, poi, negli ultimi anni sono scattati i rendimenti dei conti di deposito. Con il deciso aumento dei tassi di interesse avviato dalla BCE per frenare l'inflazione, è tornato di moda questo strumento offerto dalle banche. Praticamente dimenticato quando il costo del denaro era vicino allo 0, il conto di deposito è tornato invece a piacere ai risparmiatori. Con rendimenti che si sono impennati e appaiono competitivi con quelli dei titoli di Stato. Inevitabilmente con il taglio dei tassi, però, la situazione inizierà ad invertirsi già nella seconda parte dell'anno. Secondo un'indagine dell'osservatorio di Sostarife.it è confrontaconti.it. Nelle prime settimane del 2023 i prodotti disponibili sono riusciti a garantire fino al 372% di guadagno netto in più rispetto alla media del 2022 per un deposito a sei mesi. L'investimento nei conti di deposito è inoltre garantito, come quello in un conto corrente normale, dalla copertura del fondo interbancario di tutela e fino a 100.000 euro. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.